se avete paura degli insetti o meglio delle vespe vi conviene scorrere guardate che cosa ho trovato oggi in stalla all'interno di questi cartoni in cui noi mettiamo la legna per l'inverno hanno fatto il nido queste vespe più precisamente parlo della vespula vulgaris pensate che costruiscono i loro nidi che ammettiamolo sono davvero bellissimi con polpa di legno mischiata alla loro saliva e la cosa un po più diciamo spaventosa è che possono ospitare più di 10.000 esemplari quindi deduco che questo in realtà sia un nido piccolino